questa pandemia. Le faccio vedere delle foto che lei sicuramente conosce a memoria, che hanno fatto molto discutere, che il settimanale Chi ha pubblicato, le vediamo, ritraggono lei con il suo fidanzato l'attore Giulio Berruti, avete la mascherina abbassata, vi fate i selfie eccetera eccetera. È stata molto criticata perché siccome in tutta Italia vige l'obbligo di portare la mascherina e voi invece siete ritratti senza la mascherina. No, avevamo la mascherina abbassata, ce l'avevamo, abbiamo abbassato la mascherina essendo noi due da soli e sicuramente congiunti ormai possiamo dire, visto che stiamo insieme, come tante coppie eravamo all'aria aperta una passeggiata da soli, avevamo la mascherina, l'abbiamo abbassata per fare un selfie e poi l'abbiamo rimessa. A differenza di altre persone siamo seguiti... Perché ha preso la multa però per aver fatto... No, non abbiamo preso la multa, diciamo non abbiamo preso la multa perché l'abbiamo abbassata per un minuto e rimessa su, non eravamo senza. A differenza di altre coppie evidentemente ci sono delle fotografie che hanno preso quel momento ma sicuramente noi rispettiamo le regole, ce l'avevamo, l'abbiamo abbassata un minuto e l'abbiamo rialzata. Dopodiché io la ringrazio perché mi ha consentito anche di fare questa precisazione. Detto questo credo sinceramente che con centinaia di morti che abbiamo e tutti i temi importanti di cui stiamo discutendo mi piacerebbe parlare appunto di come utilizziamo i soldi dei recovery fund più che della mia mascherina. Questo mi fa piacere e la ringrazio per la precisazione. Mi dispiace ma su questo lei non ha ragione perché lei è una persona pubblica e soprattutto un politico Io non pretendo di avere ragione, le dico, le ho risposto e mi farebbe piacere. Dare il buon esempio. Se lei viene fotografata senza mascherina poi dopo lei deve spiegare. Era abbassata. Ho capito ma vede che stiamo qui e cerchiamo di... Ma io le ho detto che l'ho ringraziata per avermi consentito di precisarlo, l'ho fatto volentieri. Sicuramente starò ancora più attenta a non abbassarla nemmeno per parlare con il mio fidanzato quindi starò ancora più attenta. Sono sicura che tutti lo facciano e quindi sono contenta di dire facciamolo, teniamola sempre. Adesso però mi piacerebbe anche parlare, penso sia più utile per tutti anche di come utilizzare quelle risorse. Altri paesi per esempio possiamo parlare delle nostre proposte su questo. Aspetti un attimo. Al secondo giro, Norevole Boschi, nel senso che quando non ci sarà più la minaccia della crisi di governo forse riusciremo a entrare anche più nel merito. Non c'è una minaccia, sinceramente non c'è una minaccia di crisi di governo, però possiamo porre dei problemi dire che non ci sta bene questa struttura o dobbiamo accettarla così perché abbiamo deciso che Conte non sbaglia mai?